L'abbiamo ripetuto nel corso di questa mattinata per far conoscere ai ragazzi le bellezze del nostro territorio. Questa è un'occasione importante per far conoscere queste bellezze facendo divertire però al tempo stesso i ragazzi con questo bellissimo album. Sì, come Froneri siamo letti di partecipare a questa iniziativa perché ci rivolgiamo ai nostri consumatori. Quindi qual è il miglior modo per far scoprire i tesori del territorio ai più piccoli? Sì, a parte questo con la Regione Lazio e il Proveditorato degli Studi abbiamo firmato ultimamente un accordo per l'alternanza scuola-lavoro. Allo stesso tempo apriremo le porte dello stabilimento a tutte le scuole che vogliono visitare lo stabilimento. Abbiamo preparato un percorso aereo in modo tale che i ragazzini possano visitare la fabbrica in piena sicurezza e allo stesso tempo dimostreremo e insegneremo a preparare il gelato per quale migliore occasione questa di partecipare a questa iniziativa e ospiteremo anche una sessione legata al giornalino che dovrebbe avvenire nelle ultime fasi del concorso. Grazie Grazie Grazie